Il solito cordialissimo saluto a voi tutti da parte di Sandro Galantini del gruppo medico d'archivio e benvenuti a Checkup qui a SuperJ. Checkup è la trasmissione dedicata a una particolare branca della medicina che è la diagnostica per immagini, quindi sono radiologi, gli specialisti che permettono ad altri specialisti di operare come? Individuando appunto grazie alla diagnostica per immagine delle patologie e molto spesso addirittura salvando la vita perché in questo discorso c'entra anche molto la prevenzione. È un viaggio che facciamo avendo reclutato, coinvolto, cooptato, usiamolo in po' tutti questi termini, una bravissima esperta, medico radiologa appunto, che è la dottoressa Giorgia Di Felice che è la direttrice sanitaria del centro diagnostico Interamnia di Teramo. Ciao Giorgia. Ciao Sandro, salve a tutti. E grazie sempre Giorgia. Grazie a te per l'invito. Per queste notizie che ci dà e che effettivamente ci permettono di conoscere di più e meglio tante cose che magari abbiamo semplicemente sentito o anche alcune un po' complicate che forse sentiamo meno frequentemente ma che è opportuno invece conoscere. Per esempio la coxartrosi. Che cos'è Giorgia? Allora Sandro, la coxartrosi non è altro che un processo artrosico cioè degenerativo dell'articolazione coxo femorale che è l'articolazione dell'anca. Ascoltami Giorgia, quali sono le cause? Allora come tutti i fenomeni dei processi degenerativi anche la coxartrosi riconosce tra i fattori di rischio l'età, i sovraccarichi articolari biomeccanici, le progresse fratture della testa del femore o del tetto dell'acetabolare, delle anomalie congenite e tra queste la displasia dell'anca oppure abbiamo le cosiddette coxartrosi diopatiche essenziali che scaturiscono senza una causa apparente almeno di quelle dette prima. Ascoltami Giorgia, quali sono i sintomi? Ecco parliamo un po' della sintomatologia. Allora la sintomatologia è essenzialmente una sintomatologia dolorosa che nelle prime fasi insorge esclusivamente sotto sforzo durante il movimento. È ovvio che il dolore col passare del tempo, anche anni, diventa ingravescente, si manifesta anche al riposo e può irradiarsi alla regione inguinale oppure nella regione glutea e spesso può portare anche ad un blocco dell'articolazione, quindi a una limitazione funzionale anche importante. Caspita, eh sì, questi dolori un po' io li conosco purtroppo. Giorgia, esami di imaging? Allora, tra gli esami di imaging di primo livello, quello più semplice, più immediato, è sicuramente la radiografia del bacino, quindi nelle due proiezioni, che consente di valutare simmetricamente tutte e due le articolazioni coxofemorali, vedere quanto è ridotta la rima articolare, quindi andare a valutare l'artrosi e anche più o meno a quantizzarla. Ci consente di valutare la presenza di calcificazioni articolari, peri articolari, che spesso possono esasperare la sintomatologia dolorosa, e poi di andare a vedere se sono già presenti delle alterazioni strutturali, soprattutto della testa del femore, che indicano sempre che il processo degenerativo è un processo avanzato. E poi con la radiografia del bacino andiamo a valutare anche le articolazioni sacroliache, per cui spesso e volentieri una problematica primitiva della sacroliaca può essere misconosciuta dal paziente come un problema dell'articolazione coxofemorale. Ho capito, ho capito. Scusami Giorgia, quando si ricorre a una risonanza magnetica del bacino? Allora, la risonanza magnetica è sicuramente un esame di secondo livello che permette di stadiare il quadro astrosico, quindi ci fa vedere il versamento articolare, ci fa vedere quanto è compromesso l'osso, ci fa vedere se c'è una borsite per trocanterica e ci consente di escludere una condizione di osteonecrosi della testa del femore. Eccolo qui, osteonecrosi. Alcuni dicono necrosi a seconda che la si pronuncia alla greca o alla latina. Noi la pronunciamo alla greca, quindi... Non sbagliamo. Allora, a questo punto però voglio sapere che cos'è la osteonecrosi della testa del femore. Allora, l'osteonecrosi della testa del femore è una patologia dolorosa, cronica, ingravescente, che riguarda appunto la testa del femore. Alla base c'è una interruzione o una riduzione importante dell'apporto ematico. Quindi il sangue praticamente. Esattamente. Quindi cosa succede? Che con il passare degli anni, perché ci troviamo di fronte ad una patologia cronica, la struttura della testa del femore cambia, si indebolisce, si appiattisce fino ad arrivare anche al collasso. Tanto è vero che l'osteonecrosi è anche una delle cause più importanti di coxartrosi. L'osteonecrosi riconosce diversi fattori di rischio. Tra questi sono stati tirati in ballo sicuramente le pregresse fratture, l'alcolismo, la terapia radiante, una terapia con cortisonici prolungata nel tempo e poi esiste un'osteonecrosi idiopatica che alla base non ha nessuna variante anatomica o nessun fattore di rischio predisponente. Che è una sfiga. Praticamente sì. Sì, una sfortuna diciamo termonucleare globale. Esattamente. Mamma mia, guarda. Il problema dell'osteonecrosi qual è? È che nelle prime fasi dell'alterazione vascolare la malattia è silente, è muta, come è muta la radiografia. La radiografia mi si positivizza quando la malattia ormai è arrivata in uno stadio particolarmente importante, per cui ci viene incontro la risonanza magnetica. La risonanza magnetica che ci dà la possibilità di studiare in fase precoce la presenza dei piccoli valli osteonecrotici che possono interessare la testa del femore, ma proprio per le sue caratteristiche intrinseche ci permette anche di vedere se è in atto un processo di contropatia femoroacetabolare, per cui ci dà proprio la possibilità di andare a distinguere queste due condizioni. Vedete allora quanto è importante la diagnostica per immagini, davvero... Quella dei medici radiologi non è sempre, diciamo, una categoria... Voi sui film ci finite poco a volte, no? Però, come potete vedere e come potete ascoltare, grazie a Giorgia, insomma, è il front office, diciamo così, è il primo approccio da fare, molto meditato, molto attento, che consentirà poi ad altri colleghi della dottoressa Giorgia di poter operare. Insomma, quindi questo è fondamentale, molto importante, a volte noi diamo per scontato tante cose, invece io credo che CheckUp sia utile per conoscere, ecco, questo mondo che rimane un po' tangente, diciamo così, e che invece è molto importante ed è appunto quello della diagnostica per immagini. Va bene, Giorgia, grazie, grazie sempre. Grazie a te, Sandro. Noi ci vediamo ancora per un'altra puntata che sarà, credo, dovrebbe essere forse l'ultima puntata, comunque la decima puntata e vedremo qual è l'argomento che tireremo fuori per quella decima puntata. Continuate a seguire CheckUp e continuate a seguire SuperJ. Cordiale saluto a tutti. Arrivederci. Grazie a tutti.